Ehi, ce l'ho visto, buona Si macchia la madonna Sono morto subito, porta puttana Sì, sai perchè? Perchè noi tutti e tre siamo scesi qua, tu da solo invece di lì Pia un'arma Eh, eh, vedi, è di più dengul Eh, è buono, è una cosa che pia Ok, buongiorno Ecco, mi sto riscendendo Quello lutto dove sto io, ha il capannone a fianco, eh Eh, l'ho visto quello lì che ha f***ato, quel lutto Quello l'ha f***ato voi, tu Dai, andiamo Ma quando ne hai? Dai, andiamo Vedi, un po' meno cecchino Ecco qua, sto l'ho visto Guarda che vi do Guarda che vi do Stai ecco, stai ecco Ah no, non lo posso lanciare Ah no, non lo posso lanciare Se ne sta più di uno? Sì Faccio il giro da destra E' uno qua sotto A me, sotto a me Un po' se ne ho fatto Uno, uno sotto a me, sotto un po' dio Un po' di due 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 Dado, mamma! Da dove, da dove, porco di... Guarda... Guarda là, guarda! Amico, contatto! Un'altra parte ha tornato in squadra! Prego! Gioca, è il sesso! Sopra un montagnetti, sopra questa cazzo di casetta a fianco! Jeff, via a sinistra! Il nemico ha schierato un UAB di disturbo! Compagno, tornato in casa! Ben fatto! Avete raggiunto la giamatura! Aldo, salendo sotto a te! I rinforzi sono in arrivo! Bravo, Amassi, dall'alto! Vai, finisceli, finisceli! Bravo! Devo scendere nel piena arma? Oh, dai, su! Dai, su! Di sinistra, di sinistra! Dai, su! Mi sto sparato, porco di... Oh, porca troia! Bene! Quello che è potente! Quello che è potente! Jeff, sta bene! Andiamo all'apro! Andiamo all'apro! All'apro! Vai! Andiamo all'apro! Andiamo all'apro! Eh, molli dev' a scranata! Eh, molli dev' a scranata! Eh, facendo aspettarmi a scavinca piallacca pure, appena che la poteca! Mi facete frega da caggia! Mi faccia, e vediamo! No, dai dove stò io? C'è una falla nella rete nemica! No, no, c'è una falla nella rete nemica! e recuperate le informazioni prima che vadano offline c'ho cassa di munizioni vi ho download, vi ho download ce ne sono fatti fuori ce ne sono fatti facetelo per voi, scusate, ma a fine che già l'ho fatto io prima di te c'è una maschera qua ma vuoi che semplici leggenda un nemico in volo ok, prendi i dati andiamo a farlo, andiamo a farlo, andiamo a farlo, eh, che abbiamo bisogno se facciamo tutte e tre, abbiamo fatto l'evento per le cose dai, due a sta che là ok, sta segnata sulla mappa una nemica ha attivato una plinking zona non devono rubarsi i dati identità dei bersagli confermata dai dai dai, oh ma sta da venire io si si, mo vengo ma che ti fa' sta cosa, scusate mi sa' ci, però, serve per i cosi serve per fare, eh, sì, l'ho visto, l'ho visto oh, qua, qua, qua ma porca, madonna ma madonna oh, ma se mi stai hack porca madonna uno dietro ai bagni uno dietro ai bagni arriva, dove sono morto io arriva è solo un graffio ti rimetterai oh, questa l'apro l'ora ah, è morto questa è qui dove sta l'altro può finire eccolo dove sta a carlare le cose attacco con mortaio in arrivo sono già da attacco a mortello maschera qua maschera antigasqui l'attacco sta colpendo gente è qua ce l'hai da un attacco buttateci ma che fa c'è il sistema fermo come vi piace no, qua stanno a sparare oh, ci sono nemici dottor snake sta a sparare qua si non so che io non le vede ci sono nemici dottor snake non vede nessuno si è in sbuteco il tuo team è nella zona sicura cadendo dove scusa come se ne entri ieri ne entri c'è un aspetta scusa 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 versagli identificati ingaggio autorizzato piaccio una mina tratta di munizione nemica marcata rotto UST mi hanno colpito Nadia regal L' Advanced poi non viene nessuno da bici Nicolas Crasata come foresail vado climbing is this is there ya Ehi bullshting Lassi stanno a spiare Lassi stanno a massacrare Quella zona là Dottor Snake si è atterrato Ehi bullshting Ehi bullshting Ehi bullshting Vengo pure io Avevamo gente a destra sul palazzo Con la gente là eh Come faccio là se dentro la cosa Ehi Ho sceso Che ha tirato il drone Enzo Snake La zona sicura è molto distante Non c'è tempo da perdere Meno di 10 alla fine Meno di 10 alla fine Siamo in 4 5 gruppi sono tutti spaiati Dai 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 raga Facciamoli ferita un po' Sei Sei Siamo 4 contro 2 Contro 1 e 1 3 gruppi 1 e 1 sono rimani Guarda sopra la banchina Sì 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 Qui sotto dentro il coso Sta solo eh Sta da faccio Scudato? Sì Tutto una flashback Usa una carta per colante Sei buttato sei buttato Stai in acqua dai raga Siamo a galla eh che gli spariamo Oh Mi stanno a sparare Dov'è sta? Dov'è sta? Dov'è sta? Dai, là giù, in acqua! Da cazzo corre la testa! Ma ora ci muoveremo in mezzo al gas! Ma ora ci muoveremo in mezzo al gas! Oh, non riesce a riappare la testa! Ma ci muoveremo in mezzo al gas! Ma ci muoveremo in mezzo al gas! Ma ce la dovrei farcela, dovrei farcela! Facci, facci, facci! Chiastratevi! Consiglio di puntare subito alla zona sicura! Lo sono già! Ma dov'è sta quello? Oh, ma che ne so! Dai, si è morto! Quattro contro dai! Correte! Andate sott'acqua, va più veloce! Eccolo, sulla banchina! Si, si è buttato! Dove? Da che lato? Dietro o davanti? Il lato verso! Ma guarda, mi ha messo giù! Dai, dai, raga, fatelo! Non lo vedo! Dove sta? Facciamo dietro! Non lo faccio sta! Ci ha fatto a tutte e quattro! Incredibile, oh! Eh, catter! Oh, dai! Uccidi, uccidi! Molto finale! Quattro! Oh, ci aveva fatta a tutte e quattro! Fortissimo! Non solo! A me non mi mirava! Mi ha mirato in terza persona! Non mi ha mirato in prima persona! Puoi entrare in quattro con noi! Puoi entrare in quattro con noi! Mh! Ma entra qui, c'è con me, con un quattro! Non la posso metter sta partita, ce l'aveva stuprato, raga! No, questa l'aveva messa! Ma che metti? No, no, ce l'aveva stuprato! E va bene... Questa partitina l'abbiamo vinta! Ma... So che kill! No, sei... Potete il snack! E' bravo! Ieri sera avevi fatto 30 kill senza vincere! Tutta f... Io sono messo a giocare ancora con questa squadra Aspetta, esce, deve entrare Cristian